...non so come il computer... ...e...pro...programmatori... Quindi voi avete iniziato ad essere che cosa? Dei piccoli...pro...programmatori... Dei piccoli programmatori. Abbiamo imparato l'APC. Che cos'è l'APC? L'alfabeto del computer, è vero? Come glielino gli ordini al computer io? Attraverso che cosa? Di piccoli... Attraverso una serie di... ...istruzioni... Carissimi! E una serie di istruzioni. Come la chiamiamo noi? L'artorismo... La chiamiamo... Argo... P... 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 Riproponiamo? No! Riproponiamo? Allora... Allora... Un argo... Ogni quadratino è un passo... Due... Tre... Quattro... Cinque... Sei... E poi che ti dice? Di andare su... Di andare su... Quindi girati... E vai su... Quanti passi... Stop! E vai su... Sì No! No! Grazie.